Io penso che un mio coetaneo e una mia coetanea dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a Rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive. C'è tempo fino al 31 dicembre 2024 per candidarsi e poter accedere al quarto anno a Rondine, un'opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l'innovazione didattica. Quando sono arrivata a Rondine mi sono sempre chiesta quale sarebbe stato effettivamente il cambiamento che Rondine avrebbe portato in me e nella mia vita ma soprattutto nella mia comunità. Sono arrivata con tante certezze che invece nel corso del quarto anno ho decostruito a poco a poco per poi riconsolidarle in maniera più salda e per radicarle meglio dentro di me e questo è forse il cambiamento più grande. Il quarto anno Rondine significa trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace, un ambiente capace di mettere in comunicazione paesi e culture diverse grazie all'interazione con la World House di Rondine. Non solo, il quarto anno di Rondine non finisce a giugno, la formazione infatti continua a distanza anche nell'anno successivo. Il quarto anno è entrato e ora vive nel territorio di Vittoria in vari modi sia grazie alla sezione Rondine che è il progetto appunto del quarto anno che viene portato in tutte le scuole d'Italia che ha inizio quest'anno come sperimentazione anche nella mia scuola e attraverso il progetto di ricaduta sociale perché ho realizzato un coro, si chiama il coro Noi Posso che riunisce bambini e bambine che vengono da situazioni familiari, sociali, economiche molto diverse tra di loro con l'obiettivo di creare dei momenti di socializzazione, di scambio dove non solo si canta insieme ma prima si scoprono temi della legalità, della sostenibilità, del rispetto reciproco.